Tutto è cominciato da questa galleria, però questa galleria poi terminava a un muro, vedete queste sono i laterizi, questa è la parete e finiva a un muro. Dopo dieci anni abbiamo fatto un'indagine diagnostica, praticamente abbiamo fatto una geodiagnostica sul terreno con questi strumenti e questi strumenti hanno rivelato questa situazione. Qui è la ghiacciaia in questo cerchio. Una ghiacciaia risalente al periodo medievale è stata riportata alla luce ai piedi dell'omonimo Vassione della Fortezza Medici a Diarezzo. Lo scavo archeologico finanziato dalla Fraternità dei Laici sotto la direzione scientifica della soprintendenza archeologica ha infatti confermato la presenza della struttura, riportata nella cartografia storica almeno sin dalla metà del XVIII secolo e rimasta parzialmente visibile fino agli anni 50 del secolo scorso. Abbiamo effettuato questo intervento che per il momento è un intervento preliminare e che aveva la finalità di individuare in loco queste strutture che si supponeva attraverso studi, prospezioni ed esame della cartografia storica essere qui presente. L'intervento di scavo ha interessato tra l'altro anche un'altra zona qui vicino dove erano state viste delle anomalie e dove è stata trovata una struttura muraria possente della quale per il momento sappiamo pochissimo ma che potrebbe veramente dare nuovi dati, aprire una nuova luce sulla storia di Arezzo. Abbiamo trovato una struttura che è interpretabile come una ghiacciaia, è una struttura che presenta l'elevato esterno con un tamburo cilindrico delimitato da un marcapiano e poi è una struttura tronco di cono che noi abbiamo indagato fino a 3 metri di profondità però si può ipotizzare una profondità più o meno di 7 metri, 7 metri e mezzo. È una struttura che era funzionale alla conservazione del ghiaccio. D'inverno era piuttosto semplice sia per mantenere la neve che trasportando il ghiaccio dalle vicinanze dove nevicava. In assenza di neve esistevano delle strutture complementari nei pressi della ghiacciaia che erano o delle vasche o delle piccole buche in cui la sera prima di andare a dormire si buttava un po' d'acqua, la notte ghiacciava, la mattina si recuperava il ghiaccio e si andava a stipare nella ghiacciaia per avere sempre il ghiaccio a disposizione. Tutto questo serviva sia per la conservazione dei cibi, naturalmente non era l'unico modo perché c'era la salatura, la fumicatura, che molto probabilmente anche per usi medici. Probabilmente qua sotto c'è una città sepolta di epoche diverse che noi dobbiamo ritrovare e far sì che tutta la gente di Arezzo possa ritornare a conoscere un luogo che sarà un parco archeologico nel nostro intendimento.